Me l'avete chiesto in tanti e alla fine eccola qui. E se faccio questa analisi, lo faccio solo per amore, per voi che mi seguite tanto, con affetto, visto che i video di questo tipo, di queste analisi, sono quelle che fanno meno visualizzazioni e come le interazioni. Praticamente sono i video che mi rendono povero. Vi voglio bene. Andiamo a vedere in profondità UNP, Union Pacific Railroad e andiamo anche a dare un occhio alla ultima trimestriale e per capire anche come procede il business per il futuro. In questo video ho parlato di recente di quanto il settore ferroviario sia proficuo per gli investitori e allo stesso tempo di quanto sia snobbato. Oggi andiamo a vedere quali siano le condizioni e le prospettive di quella che, a mio parere, è la migliore da prendere sul mercato azionario americano, ricordandoci che queste sono mie semplici valutazioni e non consigli finanziari. Prendete tutto come uno spunto e non come un invito ad investirci. Partiamo prima di tutto ad analizzare alcuni punti fondamentali del business e poi andiamo ai noiosi numeri. Nudi e crudi. Per questi numeri di lungo termine ho anche preparato alcuni file Excel con uno storico di 20 anni sia per il balance sheet che per l'income statement. Per chi li volesse ottenere vi spiego durante il video come poterli scaricare. Per cui state fino alla fine, guardatevi sto video su. Accattatevi il lo. Partiamo da alcuni punti fondamentali prima dei numeri. Chi è? La Union Pacific Railroad Company è la principale società operativa della Union Pacific Corporation e collega quasi 20 testati nella parte occidentale dei due terzi del paese tramite ferrovia fornendo un collegamento fondamentale nella catena di approvvigionamento. Il mix di attività diversificate della ferrovia include bulk, industriale e premium. La Union Pacific serve molti dei centri più abitati statunitensi a più rapida crescita e opera da tutti i principali porti della West Coast e della Gulf Coast e si collega con i sistemi ferroviari del Canada ed è l'unica ferrovia che serve tutti e sei i principali gateway del Messico. Ha una clientela vastissima di circa 10.000 clienti. Ma cosa fa nel dettaglio? Contrariamente a quanto si possa pensare, il trasporto ferroviario pulo non è l'unico business di un IP ma solo una parte del complesso business che la compongono. Non parlo di altre attività in realtà, ma della profonda integrazione del business tra i vari aspetti degli asset. La ferrovia insieme alle sue sfidearie e le affiliazioni ferroviarie costituisce effettivamente l'unico segmento operativo riportabile. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio come mai dico che non è l'unico business. E infatti partiamo dalle operations. Union Pacific Railroad con un acronimo UPRR è la ferrovia di classe 1 che possiede circa 32.500-34.000 di piste rotabili che per noi italiani corrispondono a circa 52.361 km che collegano i porti della costa del Pacifico e del Golfo con i gateway del Midwest e degli Stati Uniti fornendo diverse arterie verso i principali ghettoi messicani. Come si vede dall'immagine coprono circa i due terzi occidentali del paese e inoltre c'è una profonda coordinazione con gli alti vettori ferroviari per rimantenere una certa linearità della rete soprattutto verso la costa atlantica, la costa del Pacifico, il sud-est, il sud-ovest, il Canada ed il Messico. Per parlare di alcuni numeri importanti alla chiusura dell'anno fiscale del 2022 i ricavi del trasporto merci sono stati pari a 23.2 miliardi di dollari dai seguenti tre gruppi di merci che andiamo appunto a integrare adesso con quello che ho detto prima. Partiamo dal gruppo Bulk. Le spedizioni Bulk della compagnia includono cereali, prodotti derivati da cereali, fertilizzanti, alimenti e prodotti rifrigelati, carbone e fonti rinnovabili. Nel 2022 questo gruppo ha generato il 33% dei ricavi del trasporto delle merci. Poi c'è il cosiddetto gruppo industriale che è una vasta rette che agevola lo spostamento di numerosi merci tra migliaia di punti di origine e destinazione di tutto il Nord America. Il gruppo industriale è composto da diverse categorie fra cui costruzioni, prodotti chimici industriali, plastica, prodotti forestali, prodotti specializzati specialmente e principalmente rifiuti, sale e coperture per tetti ma anche materiali più importanti come i minerali, il petrolio, i gas liquidi dal petrolio, il cosiddetto GPL, il carbonato di sodio e la sabbia. Il trasporto di questi prodotti ha rappresentato il 35% dei ricavi del trasporto merci 2022. L'ultimo gruppo è quello che si definisce Gruppo Premium e nel 2022 le spedizioni del Gruppo Premium hanno generato per ONP il 32% dei ricavi totali da trasporto di merci. Il Premium include automobili finite, parti per automobili e merci in contenitori intermodali sia nazionali che internazionali. Il commercio internazionale consiste principalmente nel movimento di traffico di importazione e di esportazione di contenitori da spedizione da 20 e da 40 piedi, quelli che vedete sulla strada, che passano principalmente attraverso i porti della West Coast destinati a uno dei molti terminali intermodali interni dell'azienda. Per quanto riguarda invece il commercio nazionale include il traffico di container ed i morchi prelevate e consegnati nell'America del Nord per conto di società di marketing intermodale, principalmente sono agenti spedizionieri o aziende di logistica. Union Pacific è il più grande vettore di automobili ad ovest del fiume Mississippi in opera o accede a 39 centi di distribuzioni di veicoli. Ora che abbiamo visto i tre branch principali diamo anche un occhio a qualche numero della chiusura della trimestrale e poi della chiusura dell'anno fiscale del 2022 così notiamo alcune piccole differenze, alcune piccole cose che vale la pena puntualizzare. Se andiamo a parlare dell'ultima trimestrale i dati sembrano essere in contrazione ma se guardiamo sui dati sul lungo periodo la situazione che si presenta è diversa. Come vi dicevo all'inizio ho preparato dei file Excel con uno storico di 20 anni o quasi, sono 19 in realtà, sia per il balance sheet che per l'income statement. Per chi volesse ottenere li andrò a pubblicare sul mio Patreon dove potete scaricarli al costo di un caffè al mese. Ne arriveranno altri in futuro visto che ormai YouTube è la mia principale fonte di sostentamento. Arriverà molto altro dedicato a chi mi supporta. Per cui state bene, come dicono in inglese, tuned. Andiamo a guardare i numeri assieme e vediamo se ne vale la pena effettivamente avere un IP in portafoglio. Prima di partire dall'analisi totale dell'azienda facciamo anche un piccolo appunto sull'ultima trimestrale quella che è stata rilasciata il 26 luglio del 2023 nella quale Union Pacific riportava per il secondo quarter del 2023 1.6 miliardi di dollari di net income o 2.57 dollari per share diluted. Questo risultato includeva anche quelli preventivamente riportati di 67 milioni di dollari per i costi del personale e 73 milioni di dollari di income tax benefit che in comparazione col secondo quarto del 2022 dava un net income di 1.8 miliardi di dollari o 2.93 dollari per diluted share. Partiamo da alcuni risultati finanziari in particolare l'operazione in revenue è scesa del 5% a 6 miliardi di dollari principalmente per l'aumento del costo del carburante e la diminuzione dei volumi ma anche per una serie di fattori misti che non sono stati favorevoli al business. I volumi di business misurati per la total revenue car load sono del 2% giù l'operati income di 2.2 miliardi di dollari in declino del 12%. Per quanto riguarda invece la share repurchase per cui il riacquisto delle proprie azioni è una cosa che andiamo a guardare poi nei file per quelli perpetui l'azienda ha ricomprato 600.000 azioni nel secondo quarto del 2023 per un costo aggregato di 120 milioni di dollari. Una cosa che andremo a puntualizzare quando andiamo a vedere i file è che l'azienda fa un massivo utilizzo del riacquisto delle proprie azioni. Per quanto riguarda le performance operative c'è stato un leggero declino della lunghezza dei treni quindi vuol dire che è stata trasportata meno merce perché erano necessari meno vagoni di un 1%. Per quanto riguarda invece l'outlook per la fine del 2023 una nota che è da mettere in risalto il fatto che si prevede tra i 50 e i 70 milioni di costo per i dipendenti per un agreement, per un nuovo contratto che è stato firmato nella seconda metà del 2023. Per il 2023 il capitale è stato allocato in questo modo capital plan 3.6 miliardi di dollari un mantenimento del dividendo cosa che a noi interessa di 1.3 dollari per il quarto e non si prevedono ulteriori riacquisti delle proprie azioni. Comunque possiamo vedere per quanto riguarda quest'ultima trimestare è che l'operating revenue per quanto riguarda il freight per cui il trasporto è in contrazione del 5% per il secondo quarto e per l'year-to-date è praticamente uguale perché è un 1% in calo quindi praticamente è uguale. E questo si va a denotare anche nel net income che è passato per il secondo quarto del 2022 da 1.8 miliardi di dollari a 1.57 più o meno è uno year-to-date che è in calo dell'8% da 2022 era 3.4 miliardi di dollari adesso erano 3.2 circa. Invece se si vanno a guardare gli asset totali si può andare a vedere che le proprietà sono andate a aumentare di circa 600 milioni di dollari poco meno diciamo poco più anzi per portare i total asset dai 65 miliardi e mezzo del 2022 a giugno del 2023 a circa 66 miliardi quindi più o meno un mezzo miliardo di aumento che sono proprio l'aumento delle proprietà nette di contro anche il debito è aumentato appunto sono lo stesso valore degli acquisti che sono stati fatti si è stato fatto molto investimento per quanto riguarda l'acquisto di nuove strutture e proprietà e questo si va a rispecchiare nell'aumento dei debiti che è praticamente uguale all'aumento del numero delle proprietà di 600 milioni di dollari anche il net income è in calo per quanto riguarda le attività operative come vediamo da 3.4 miliardi a 3.2 miliardi diciamo che il calo di per sé non è importantissimo ma comunque year to date si trova un calo di 300 milioni di dollari il rapporto fra il debito e il net income è sostanzialmente il variato è un aumento dello 0.1 punti percentuali passato da 4.8 a 4.9 però adesso io andrei sui file Excel che ho preparato per andare a vedere un po' tutta quella che è la sostanza del discorso di Union Pacific nel lungo termine perché come vediamo nel breve termine i risultati non è che ci soddisfassero appieno anche se non è un qualcosa di disastroso in questo caso non vi faccio vedere il file completamente anche perché se no chi lo va a acquistare non ci guadagna niente volevo portare all'attenzione da voi partendo solo dal 2010 lasciando perdere gli anni molto più addietro per andare a constatare che il fatturato dal 2010 è passato dai quasi 17 miliardi ai quasi 25 miliardi di quest'anno della chiusura del 2022 con un revenue che è stato sempre in crescita sostanzialmente a parte 4 battute dal resto 2015 e 2016 e 2019 e 2020 ma sostanzialmente l'aumento nel tempo del fatturato è espondenzialmente soddisfacente a mio parere per quanto riguarda le share outstanding basic come possiamo vedere è stato fatto sempre un massivo riacquisto di azioni proprie in modo da non diluire per gli azionisti la quantità di azioni presenti sul mercato anche il fish crash flow per ogni azione è aumentato nel tempo così come il dividendo per azione che è stato sempre in continuo aumento passato dai 0,66 centesimi del 2010 a un 5,08 dollari del 2022 con un aumento del dividendo pauroso in alcuni anni è aumentato anche del 47% in alcuni anni del 2% però possiamo vedere che sostanzialmente l'aumento è stato più o meno quasi costante dal 2010 in realtà anche un po' prima con un aumento di media del 15-18% sul base anno dipende da quanto è l'arco temporale di riferimento che andiamo a prendere il margine di profitto è sempre stato a doppia cifra 16,5% quasi nel 2010 adesso siamo al 28% comunque a parte un expo del 2017 del 50% abbiamo un margine di profitto che è sempre grande a doppia cifra ed sostanzialmente in aumento per quanto riguarda il balance sheet volevo portare all'attenzione tutto quello che è il cash in equivalent come si può vedere questa è la nota negativa il cash e tutto quello che è equivalente è in costante calo è passato dal miliardo del 2000 e 10 ai 973 milioni del 2022 ovviamente non è un calo eccessivo nel lungo termine però comunque è un termine che come possiamo vedere è molto variabile è andato a salire fino al 2014 e poi adesso sta costantemente scendendo quello che vi dicevo prima dei debiti che si sono creati è relativo all'aumento del numero di proprietà impianti e equipaggiamenti questo perché ovviamente questa tipologia di business è molto costoso da mantenere e bisogna sempre rimodernizzare tutto quello che è la linea fiatoviare o comunque le strutture annesse le proprietà sono passate dai 38 miliardi del 2010 ai circa 58 quasi 58 miliardi del 2022 un costante aumento delle strutture questo vuol dire che l'azienda investe tantissimo in modo tale che le sue attività siano sempre moderne pur essendo in un regime di duopolio l'unico alto competitor è una società posseduta da Warren Buffett che però non è quotata sul mercato perché ovviamente c'è Berkshire Hathaway infatti come possiamo vedere comunque da questo punto di vista gli asset totali sono andati sempre ad aumentare i 43 miliardi nel 2010 siamo passati quasi a 65 miliardi e mezzo dalla fine del 2022 questo si rispecchia anche nell'aumento del debiti a lungo termine si è passati dai 22 miliardi e 3 quasi 4 nel 2010 ormai siamo quasi ai 48 miliardi di debiti una cifra piuttosto importante per un'azienda di questa capitalizzazione con un debito totale che è passato dai 10 miliardi 9 miliardi e 2 del 2010 ai quasi 35 miliardi del 2022 con un aumento del debito che inizialmente era in calo ma poi per i forti investimenti che sono stati fatti comunque è una media di aumento dell'11% anno negli ultimi due anni comunque nel lungo termine siamo sul 15% circa di aumento del debito su base anno questo è un punto da tenere in considerazione perché a mio parere può impattare notevolmente l'attività dell'azienda se questa non si guardasse bene da come gestire il debito andiamo a vedere anche l'ultima cosa quello che riguarda i dividendi infatti per quanto riguarda i dividendi al momento come dicevamo prima eravamo a 5 dollari e 20 con un dividend yield del 2.26% con una market cap di 140 miliardi di dollari il dividendo di per sé è un dividendo molto sicuro a mio parere perché ha solo il 48% di payout ratio è un dividendo in crescita da 16 anni più o meno con la media degli ultimi 5 anni del quasi 14% il 13.75% per la precisione per cui a mio parere è un dividendo abbastanza sicuro andiamo a concludere il video bene ricordandoci che questi non sono consigli a investire o a non investire in questa o in quell'altra azienda ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo credimento con un bel pollice in su se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona anzi un'ottima idea cominciare a fare parte di questa community con una maggiore presenza la tua iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche io ti saluto e ci vediamo al prossimo video a presto